Nella piana di Gioia Tauro doveva sorgere il quinto polo siderurgico d'Italia, ma in realtà non è mai stato completato. Esiste solo il porto di Gioia Tauro, uno dei maggiori nodi di smercio del narcotraffico internazionale, principale fonte di guadagno dell'Andrangheta calabrese. Il porto è diventato perciò il simbolo stesso del potere dell'Andrangheta. In Calabria e nelle altre terre di mafia c'è un giro d'affari illeciti pari ad almeno 30 miliardi di euro l'anno. La Calabria è anche una delle regioni italiane con il maggior numero di beni confiscati alle mafie e allo stesso tempo una delle aree più povere d'Europa in cui il tasso di disoccupazione ha dei livelli altissimi. Ma la Calabria non è solo terra di mafia. Esistono persone che non si arrendono e che vogliono cambiare la mentalità di questi luoghi. Come si può coltivare la legalità? Questa che vi raccontiamo è l'esperienza di cinque ragazzi della redazione del Blogos che, partiti da Casalecchio di Reno, hanno partecipato per una settimana al campo di lavoro estivo organizzato dalla cooperativa Valle del Marro Libera Terra nella piana di Gioia Tauro e precisamente a Polistena. Grazie a tutti.